Ora ricomincerà l'emergenza sicuramente, come avete già bello e visto, e aspettiamo, si spera che ci diano dei dispositivi perché se no non si lavora. Ritardi nel pagamento degli stipendi, la sospensione della quattordicesima, ne pagano le conseguenze sia psicologicamente, fisicamente, perché la fatica di affrontare la crisi Covid con tutto quello che concerne intorno è devastante. Hanno manifestato davanti all'ospedale San Jacopo le lavoratrici del settore multiservizi, le lavoratrici 500 a pistoia, solo quelle addette in appalti pubblici che assicurano pulizie e sanificazioni di mezzi di trasporto, uffici, scuole e appunto ospedali. Nell'emergenza Covid, nel gruppo degli eroi, come la retorica nazionale le definisce, ma eroi che da sette anni aspettano che il loro contratto sia rinnovato. Non esiste quasi mai full time in un settore del genere, sono stipendi che mai arrivano a superare il 1000 euro. Nonostante le aziende si siano arricchite anche in questo periodo qui per effetto di maggior bisogno di pulizia e igiene, le lavoratrici non è stato riconosciuto, nessun aumento contrattuale e quindi nessun aumento in busta paga. Abbiamo sempre il timore, nonostante cerchiamo di avere i presidi, i DP, però abbiamo sempre paura. Dobbiamo imparare in Italia, dobbiamo imparare a tenere al centro le persone, finché non impareremo a tenere in considerazione le persone e quello che veramente fanno nel mondo del lavoro, non andremo mai avanti. Quindi sono lavoratrici e da sette anni non percepiscono nessun aumento in busta paga, nonostante facciano un lavoro che è indispensabile, si è visto anche durante il periodo del Covid, perché le pulizie e l'igiene sono fondamentali per cercare di prevenire la diffusione del contagio.